ciao a tutti e benvenuti su dukes exotic zone oggi siamo qui dai miei amici di fiscinet.net per parlare di che cosa beh ovviamente di come investire un acquario d'acquadoccia successivamente potremmo andare successivamente andremo ad inserire il substrato può essere appunto del terriccio un po più naturale come questo qua oppure del terriccio colorato per chi ama i colori per esempio questa bellissima ghiaietta di colore verde quanto è bello il colore verde ok una volta che abbiamo sistemato il nostro substrato a piccola parentesi ovviamente questo è per un acquario molto basico molto base certo che se si vuole qualcosa di più avanzato tutto piantumato quant'altro si può usare per un fondo fertile sotto il substrato il substrato appunto anche un po più alto per far radicare le piante all'interno ok adesso invece il momento degli arredi che cosa sono gli arredi ovviamente possono essere intanto di diverso tipo come delle radici, tronchi, delle pietre e possono servire intanto come decorazione per il proprio acquario per rendere un po più naturale ma soprattutto possono anche fornire riparo ai vostri pesci ok ovviamente la composizione l'ho fatta completamente a cazzo però ci piace anche così